Si è appena concluso il primo dei due momenti di formazione organizzato dall'Adusbef insieme all'Ordine degli Avvocati di Bari. Ringraziamo tutti i relatori, l'evento ha avuto un buon riscontro sul piano della partecipazione e soprattutto dell'avvocatura. Il tema che si è affrontato oggi è quello dei mutui e della capitalizzazione degli interessi. Primo di due momenti, il secondo si terrà la prossima settimana, sempre presso la biblioteca e sarà moderato dalla consigliera Silvia Panzarino in tema di frodi bancarie. I relatori di altissimo profilo professionale, essendo tecnici della materia, hanno illustrato le criticità dei contratti di mutuo, le varie tipologie di piani di ammortamento, con particolare riferimento all'ammortamento alla francese. Perché? Perché comunque lo sappiamo, il cittadino punta a comprare la casa e quindi la casa rimane sempre, diciamo, come dire, la ragione principale per cui con le banche necessariamente i consumatori si devono confrontare. Quindi l'Adusbef è sempre molto attenta alla posizione del consumatore che rispetto a quello delle banche è una posizione quasi sempre più, diciamo, ridimensionata nel contratto con gli stessi. Prima di tutto un ringraziamento a tutti gli enti istituzionali che hanno partecipato alla regione, all'Ordine degli Avvocati, alla Scuola Forense e al Ministero delle Imprese che ci ha consentito questo evento. Come Adusbef siamo particolarmente fieri di quanto è avvenuto oggi perché abbiamo avuto l'opportunità di portare in aule prestigiose come il Tribunale contenuti particolarmente complessi come quelli bancari, finanziari, assicurativi che interessano e impattano sulla vita di tutti i giorni. L'interesse che il pubblico ha anche mostrato è la testimonianza di quanto l'argomento sia pregnante e riguardi la vita di ciascuno di noi, tenendo conto che proprio queste aule ospitano spesso il contenzioso fra diversi soggetti, banche da un lato, cittadini, consumatori dall'altro. Proprio per questo abbiamo voluto al tavolo avvocati, professori universitari, commercialisti, proprio le voci di coloro i quali nei tribunali rappresentano le diverse istanze. Di questo siamo grati a tutti e siamo pienamente soddisfatti dell'esito dell'incontro. Siamo qui come delegazione ad Usbef, a tutela dei consumatori, naturalmente sulla scorta della sentenza della Cassazione a sezioni, il nostro obiettivo è quello di trovare un orizzonte, un'apertura in ordine ai mutui dove la Cassazione sembra aver messo una pietra tombale. In realtà oggi siamo qui per dare una risposta, per dare una prospettiva, un orizzonte alla voce dei consumatori, perché riteniamo che la questione non sia assolutamente risolta ma che addirittura la Cassazione a sezioni ci abbia dato altre opportunità, altre questioni invalidanti del mutuo che fino a ieri non avevamo posto all'attenzione. Ritengo che la banca che abbia applicato un regime composto piuttosto che con un tasso di interesse di forme differenti non può andare sempre da vizi di nullità, di invalidità del mutuo. Ecco quindi che siamo qui per spiegare le ragioni di Ad Usbef per i consumatori per ritornare sulla battaglia dei mutui. Giornata di approfondimento in un mondo che sta cambiando, cioè sta cambiando il rapporto tra banca e clienti, tanto che questi clienti siano delle imprese o come spesso avviene i consumatori, sta cambiando la tecnologia, sta cambiando anche la sensibilità delle corti e quindi c'è la necessità di riflettere, di fermarci un secondo a riflettere ed approfondire come la giurisprudenza, pratica e teorica, quindi la dottrina e la giurisprudenza dei tribunali, del merito e di legittimità stiano rispondendo a questa nuova sensibilità relativa al rapporto banca e propria clientela. Il mutuo sicuramente è il contratto, non è un contratto bancario ma sicuramente il contratto più diffuso nell'ambito bancario e sicuramente il contratto di finanziamento che più lega le banche con le imprese e soprattutto con i consumatori. Non sorprende quindi che sia il contratto che più interessi le aule di tribunali nel momento dell'insolvenza del cliente.